Ti piacerebbe, vero, mettere al sicuro le tue criptovalute con uno sforzo minimo e con una sicurezza che, secondo me, addirittura è maggiore dall'hardware wallet? Ti piacerebbe, eh? Beh, innanzitutto inizio subito con una domanda che sicuramente vi farete, ma come? Hai appena fatto un video, che vi linko qui, in cui dici che per motivi fiscali, a tutti quelli che le criptovalute non devono effettivamente utilizzarle come tali, conviene prendersi un bel ETC, ETN sulla cripto preferita e via, a posto, regime amministrato, tutto a posto. Eh, abbiamo una sorpresina su quelli, eh? Non, non, nulla di eclatante, ma una sorpresona direi che non ci aspettavamo. Ve la metto alla fine del video con un ospite speciale. So già che sarete tentati di saltare alla fine del video, ma sappiate che se lo fate, io ho programmato 5 pubblicità da 17 minuti l'una, che mi faranno guadagnare abbastanza per comprarmi tutte le criptovalute che mi servono, e voi farete prima, onestamente, a guardarvi tutto il video. In questo video vediamo come crearsi un wallet di criptovalute sicuro, un wallet di quelli che non vengono mai utilizzati, ovviamente, non un wallet da utilizzare ogni giorno in DeFi, per mettere in staking, gira, gira per il bridge, no. Un wallet di criptovalute che stanno ferme, non verranno mai utilizzati, il cosiddetto paper wallet, come crearlo in completa sicurezza. Mi direte a questo punto, ma come? Non c'è l'hardware wallet e spendili questi 100 euro per un hardware wallet. Ho già fatto un video sull'hardware wallet, cosa ne penso qui? Secondo me è meno sicuro e penso che mi darete ragione su questo. L'hardware wallet ha a bordo un software, voi questo software l'avete visto? Voi mi direte, eh, ma è open source. A parte il fatto che metà degli hardware wallet che sono in giro non hanno il software open source, ma è closed source. Però, anche per quelli open source, tu, tu che mi stai guardando, hai guardato il codice, l'hai capito? Io ci scommetto che nessuno ha guardato quel codice, o quasi nessuno. Quindi, comunque, vi state affidando a del software fatto, chissà cosa fa, chissà cosa dice. Ritengo, pertanto, più sicuro un paper wallet. Quindi, un wallet, voi avete su carta, non è installato su niente. Se volete, potete sempre al volo crearvi un software wallet per poter spendere quelle criptovalute. Quindi, direi sicurezza. Anzi, in questo video andrò con procedure di sicurezza che per me sembrano totalmente eccessive, ma so già che se non le farò, i pignolazzi verranno a scrivermi, eh ma, eh ma, eh ma. Iniziamo subito. Cosa vi serve? Vi servono quattro dadi. Ah! Quattro dadi. Tre da dieci e uno da sei. Eh, lo so, i dadi da dieci, molti di voi non li hanno a disposizione. Molto, molto male. Comunque, i dadi sono totalmente inutili. Secondo me non servono a niente. Vi dirò anche un altro metodo alternativo che usa un libro di dimensioni sufficientemente ragguardevoli. Deve avere almeno mille pagine. Ecco, questo è il classico libro da mille pagine. Anche qui, anche questo è inutile. So che voi non leggete da quando eravate bambini, però anche questo è inutile. Potete farlo anche senza libro. Però, se vi dico il modo per farlo senza libro, e lo dirò, i pignolazzi verranno a dirmi, eh ma non è sicuro. Ok. Poi cosa vi serve? Vi serve un computer sicuro. Cosa vuol dire sicuro? Può voler dire che o lo formattate dopo averlo usato, se volete proprio la sicurezza estrema, ma per i 200 euro che avete di criptovalute va benissimo quello che avete voi, purché non sia impestato dai virus fino al collo. Ecco qui. Vediamo, ah, carta e penna anche, perché essendo paper wallet, eh, carta e penna servono. Vediamo passo passo cosa fare. Primo passo è crearsi le 12 parole per il proprio wallet. Ora, le parole tra cui scegliere non sono quelle che vi pare a voi, cioè non è che potete prendere le 12 parole della vostra poesia preferita, anche perché penso che tutte le poesie siano già state provate per vedere se c'è qualche pirla che ha messo le parole note, ma le parole vanno scelte da una lista decisa di, quante sono? 2048. L'ultima è zoo, e non è zoo, e la prima è abandon. Ci sono anche in italiano questa lista, ma vi sconsiglio di farlo in italiano, perché poi non è che la prima parola in italiano è abbandonare, e la seconda è abilità. No, in italiano sono differenti proprio, e non è la traduzione, quindi vi consiglio di tenerle in inglese, a meno che proprio non abbiate grosse difficoltà. Ok, questa è la lista di 12 parole. Come si possono scegliere? Ecco, metodo 1 che non richiede né dadi né libro, scegliele a così, dico, oggi scelgo crop, poi focus, poi doing, poi vado un po' più giù, write, poi world, poi sponsor, e così via. Non scegliete frasi significative, soprattutto non scegliete frasi che sono nei libri, perché ve le beccano subito quelle. Cioè tutti i libri del mondo siano già stati messi dentro delle macchine che estraggono queste 12 parole in sequenza, quindi evitate cose del genere, evitate di prendere un libro ad esempio e seguire le frasi finché non vedete 12 parole di queste. No, grazie. Ok, proprio sceglietele a caso puntando il ditone qui. Questo metodo secondo me funziona perfettamente, però sono sicuro, ma sicuro, sicuro, sicuro che i pignolazzi mi diranno eh no, perché tu non ne prendi veramente casuali, ad esempio non prendi mai due vicine, o non prendi mai due lontane. Eh vabbè, secondo me non è vero, non è minimamente vero, però mi piego la testa nei confronti dei pignolazzi e facciamo altri metodi. Metodo numero due, tirare i dadi. I dadi li tiriamo. Dovete fidarvi di quello che vi dico. Allora, è uscito 0, 4, 6 sui dadi da 10, ed è uscito 4 sul dado da 6. Quindi 4 è un numero pari, allora se è pari ci metto un 0 davanti, se è dispari ci metto un 1. Quindi 0, 0, 4, 6. Quindi la prima parola è la quaranta seiesima, che è non so neanche come si pronuncia. Dovrebbe essere l'isola pedonale. Poi tiriamo ancora i dadi. Allora 3 sul dado da 6, quindi ci metto un 1 davanti, poi è uscito 6, 0, 1. Quindi 1.601, andiamo alla 1.601 e voglio vedere se i pignolazzi mi dicono che questo non è abbastanza casuale. 1.601 siege, che vuol dire assedio. O siege, perché si assiede. Dadi. Tranquilli, non ve lo faccio tutta quanta. 5, quindi è dispari ci metto un 1 davanti. 1.615. 1.601, o 1 vicino, quindi size. Size, scrivendoli eh. Dadi. 5, 2, 0, 1. Quindi 1.201. 1.201. 1.201. 1.201. Noodle. Spaghetto. Noodle. Ok. Ne abbiamo messe 4. Adesso le altre, potrei continuare così, le altre le facciamo col metodo numero 2. Per chi non ha i dadi, apri il librone in una pagina a caso. Oh per te, questa qui. Prendiamo questa di qua. È la pagina, ho perso il segno capo, è arrivato alla quinta rilettura, è arrivato a pagina 106. Quindi ricordatemi che è arrivato a pagina 106. È la 502. Però attenzione, il librone ha solo mille pagine, quindi mi serve comunque il dado. Se non avete neanche questo dado da 6, l'avrete, tiratelo fuori dal monopoli. Allora, vi insegno... Non mi ricordo che numero avevo detto, 603 facciamo. Come fare a determinare se metto lo 0 o l'1. Riaprite il librone. Pagina a caso. Scegliete non l'ultima, la penultima cifra, perché l'ultima è sempre dispari sulle pagine di destra e pari sulle pagine di sinistra. La penultima in questa casa è pari, quindi ci mette davanti uno 0. Quindi 603. 603. Allora, ditemi, Pignolazzi, se questo metodo non è abbastanza ensure. Ensure vuol dire assicurare. Andiamo avanti. So che i Pignolazzi mi obiettivano che dipende da dove apro il libro. Ad esempio, questa è 1129. Siamo già al Montefato, quindi è troppo in là perché devo stare entro il 1024. Apro qua. 368. Apro un'altra pagina a caso e la penultima cifra è un 6, quindi ci fa lo 0. Quindi è la 368. Apro di nuovo. 795 e apro a caso. Dispari, quindi 1795. Faccio notare che tutta questa fatica con una piccola calcolatrice programmabile ve la risolvete. Piccola crisi programmabile che poi però dovete bruciare, secondo i Pignolazzi, bruciare perché ovviamente ha memorizzato tutto quanto. Ok, mi raccomando, le parole ovviamente le scrivete su un foglio di carta. Non è che me le andate a scrivere su un file del computer, altrimenti tutta sta manfrina è totalmente inutile. Adesso, se promettete, le altre me le becco a caso. Faccio finta di tirare i dadi. Allora, tiriamo i dadi, becco, void, vulcano e volume. Void. Vulcano. Volume. Poi. Tell. Scogliamo un po'. Spy. Satisfy. Ah no, basta, se non servono più. Ok. Ecco qui le 12 parole, se potete rubarmi i Bitcoin. Ve lo dico onestamente, la mia opinione è che il tutto è inutile. Secondo me potrete tranquillamente col ditino beccarne 12 a casaccio, poiché non siano in fila, ovviamente. Poiché non siano un altro, a casaccio totale. Cioè, non so, se volete potete, boh, col dito, va benissimo, secondo me, è impossibile che ve le becchino. Comunque, per i pignolazzi ho fatto anche il metodo dadi e il metodo libro. Il metodo dadi è quello, secondo me, inappuntabile. Ok. Ah, so già che qualcuno bieterà come i dadi ti generano fino al 2000, mentre le parole sono 2048. Amen, rinunceremo a questo po' di sicurezza. Andiamo un po' a vedere che sicurezza abbiamo con solo 2000 parole. Guardate, se le parole invece che essere 2048 sono solo 2000, abbiamo 2000. Le possibili combinazioni sono 2000 alla 11, non alla 12, vi spiegherò dopo perché. Eh, ok, direi che contro un 2048 alla 11. Ok, abbiamo la metà della sicurezza, però comunque c'è un 10 alla 36 qui. Ok, benissimo. Trovate queste parole, sembra fatta, invece no. No, 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 no. Abbiamo un grosso problema, perché? Perché la dodicesima parola non è a nostra scelta. La dodicesima parola, che in questo caso avevo scelto da essere spy, non è a nostra scelta, è una parola di controllo, quindi non può essere quella che vogliamo. Come facciamo a determinare la dodicesima parola in maniera tale che sia una accettabile? Lo determiniamo sempre dalla solita lista. Partiamo da spy. Dov'è qui spy? Ok. Allora, una ogni 16 è giusta come dodicesima parola. Quindi ci muoviamo un po' in su, un po' in giù. Io mi muoverò in giù, anzi, dado. Pari in su, dispari in giù. Pari, quindi in su. Mi muovo in su, quindi vado a spring, spread, spray, spot, spot, spoon, sponsor, spoil, split. Ok, andrò in su, fino a che non becco quella giusta. Come faccio a sapere se è quella giusta? Vi viene in conto questo ameno programmino. Dopo parliamo di questo programmino. Intanto per adesso lo usiamo per beccare quella giusta. Comunque, ale, siege, size, noodle. Ecco qui ne ho digitate 11, adesso digito la dodicesima, spy, e lui mi dice invalid mnemonic. Perché vuol dire che spy non va bene. Ok, quindi adesso io provo le altre, me lo metto magari così, col programmino di qua. Prrrr, quindi andiamo su spring. No. Spread. No. Spray. No. Tranquilli, in 16 dovete farcela. Spot. Sport. Spoon. Spoon. Non andava bene, era il cucchiaio. Ok, quindi queste sono le mie 12 parole. Correggo, spy, spoon. In realtà non è 2000 alla 11, è un po' di più, perché sulla dodicesima parola abbiamo un controllo parziale. Io 2000 alla 11 suppone che non abbiamo nessun controllo sulla dodicesima parola. Ok, ecco qui le mie 12 parole. Sono a posto? Piano. Intanto parliamo di questo programmino. Voi mi direte, ma come ci fai usare un programmino? Questo non è un programmino, come vedete non sono su un sito web. Guardate qui, C, Users, Paolo, Documents. Sono su un programma residente sul mio computer, è questo qua, Mnemonic Code. Ok? Ne ho aperto il sorgente. E a differenza di quello che voi non avete fatto per l'hardware wallet, l'ho guardato il sorgente. Ok, è quasi tutto estetica. Ci sono le parti cruciali, sono più sotto. Non manda dati da nessuna parte. Cioè il programmino non cerca di mandare dati a nessuna parte, è in JavaScript, quindi non può immagazzinare valori. Nel momento in cui chiudo tutto, ciao ciao. E per sicurezza ulteriore, questo programmino lo fate girare a computer disconnesso da internet. Adesso io sono connesso su internet. Potrei anche essere disconnesso. Non c'è nessun motivo per cui sia connesso su internet. Vabbè. Comunque per sicurezza lo fate girare a computer disconnesso da internet. A quel punto siete a posto. So che i pignolazzi diranno, eh ma il computer appena si riconnette trasmette informazioni, ma dove? Comunque se avete questa fobia, prendete un vecchio computer. Questo qua è un JavaScript banale, basta che abbia un browser. Quindi va bene anche un computer del 95. Windows 95 non aveva il browser di default. È un computer quindi del 98. Perché si sa di avere meno Windows 98. E lo disconnettete da internet. Vabbè, del 98 non si connetterà neanche su internet. Fate girare e poi lo bruciate col napalm, per sicurezza. Però secondo me, tranquilli, tranquilli, potete usare senza problemi. Allora, il programmino quindi vi ci ha detto che finalmente questi sono quelli giusti. Se ve le scrivete, controllate che siano scritte giuste. Ok. E adesso cosa me ne faccio? Attenzione, potreste metterli in un software wallet e vedere a che indirizzi corrispondono. No, se fate così avete installato un software wallet e poi i pignolazzi vi dicono, eh ma il software wallet ha le vulnerabilità, bla 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 bla. Quindi voi non le mettete dentro un software wallet. Andate giù, scegliete la valuta. In questo caso farò l'esempio con Bitcoin e con Ethereum. Bitcoin. Andate per piacere su BIP84. Ok. Perché è quello che genera gli indirizzi che iniziano per BC, che sono i nuovi indirizzi. Potete andare anche su BIP44. Vi genera i vecchi indirizzi, quelli che iniziano per 1. I cosiddetti legacy. E penso che il BIP49 genera gli indirizzi che iniziano per 3, infatti. Che sono quelli segwit. Andate su BIP84, siete tranquilli. Controllate che sia Bitcoin, BIP84. Ecco qui. Questi sono gli indirizzi a cui corrispondono le parole. Le parole possono generare, penso, infiniti indirizzi. Ok. A voi serve il primo. Lo prendete. E voi dite. Questo potete tranquillamente salvarlo sul computer. Anzi, mi appo un nuovo... Si può aprire? Oh, benissimo. Questo potete tranquillamente salvarlo. È il vostro indirizzo, la chiave pubblica. BC1QNLX. Ok. E adesso andate sull'exchange dove avete depositato le criptovalute. O sul vecchio software wallet dove avete depositato le criptovalute. E le trasferite a questo indirizzo. Attenzione. Non fatelo subito. Prima fate tutta la procedura. Non trasferite nessuna criptovaluta. e controllate che tutto funzioni. Quindi che quelle 12 parole voi riusciate a metterle dentro un software wallet che vi accede a quell'indirizzo lì. Dopo aver controllato che tutta la procedura funziona, rigenerate altre 12 parole, perché altrimenti ovviamente. Ok. E a questo punto potete tranquillamente infilarle qua dentro. Quindi adesso proprio farò questi passaggi. Quindi mi apro un software wallet. Ad esempio, Electrum. No. Create New Wallet. Questo si chiamerà Cancellami 3, perché ovviamente... Ho detto Create New Wallet. Cancellami. No! Cancellami esiste, ma cancellami 3. Ok. Benissimo. Cancellami 3. Ok. È uno standard wallet. Voi non cercate di fare import Bitcoin addresses e private keys. La private key la vedete qui, è comunque... Si potrebbe anche fare import private keys, ma... Non vi serve. Next. Ok. I already have a seed. Next. Ok. Copiate tutta la papardella. Ecco la copiata. E attenzione qui. Colpo di teatro. Io vi consiglio di aggiungere una tredicesima parola a vostra scelta. Quindi, torniamo qui. Dov'è? La passphrase. Mettete, che so... Pignolazzi, con la P maiuscola. Ok. Pignolazzi con la P maiuscola. Perché questo è utile? Perché poi voi nasconderete queste due parole da qualche parte. Questa non la nasconderete. La saprete solo voi. E anche se non vi trovo le due parole, ma Rameo non prende. Quindi, perché questa praticamente funge la tredicesima parola, diciamo. E... Ok. Quindi adesso il mio indirizzo non è più quell'altro, ma è questo. Scusate, me lo segno perché... Ok. Torniamo sul wallet. Mettete options. Ok. E... Diciamogli BIP39 seed. Vediamo cosa dice. Ok. Extendete seed with custom word. Ok. Questo, ricordo, serve soltanto... Normalmente non dovreste farlo. Serve soltanto per controllare che tutto funzioni. Perché prima di mandare robe a cavolo, in giro, controllare che voi sappiate ricostruire e riaccedere a quell'indirizzo. Next. E... Sì, sì, ok. Pignolazzi. Next. Ok. Guardate qui. Scegliete native segwit, che è quello che inizia per bc. Next. Ok. La password è pippo, come tradizione. Pippo. Next. Ok. Vediamo se lui mi dà accesso proprio a questo indirizzo, che finisce per 42p5. 42p5. Eccolo qui. Quindi io adesso, con quelle 12 parole e il pignolazzi, sono riuscito a creare... A creare... A creare un software wallet che mi dà accesso a quello. Quindi io sono sicuro che la procedura funziona. Ok. Quindi ho provato tutto, sono sicuro che la procedura funziona. Quindi adesso cosa faccio? Rigenero altre 12 parole. In realtà io nel video non lo farò, perché non sto qui a tirare dadi altre 12 volte, cercare la dodicesima, eccetera, eccetera. Però ovviamente dovete rigenerare altre 12 parole, perché avete messo le 12 parole in un software wallet, e i pignolazzi vi vengono a dire che non è sicura la cosa. Quindi io rigenero altre 12 parole, mi rigenerò un altro indirizzo, che invece non faccio, tengo sempre questo, nel video, poi a casa ovviamente lo faccio. Ok. E... E mi sparo tutti i miei bitcoin su questo indirizzo generato. Ok. Le 12 parole non le metto mai su un software wallet, quindi non faccio la prova. So che starete con l'ansia, però... Non faccio la prova. E... Volendo, penso che il software wallet possiate anche installarlo sempre sul medesimo computer con Windows 98, che poi brucerete col Napalm, perché probabilmente per generare questi indirizzi non ha bisogno del... di essere online. Quindi volendo potete usare sempre il computer con Windows 98 che brucerete per fare questo lavoro. Ma se non avete, come me, nessuna intenzione di bruciare il computer, così, per il rischio che... Pensate che addirittura c'è gente che le parole e non le stampa con la stampante, perché dice che poi rimangono nella cache della stampante. Che è vero, però... Vero, insomma. E... Rinto a certi limiti. Però poi ce lo vedo io, il riciclatore di stampanti che smonta cache e le analizza per recuperare i vostri bitcoin. Ok. Quindi, adesso potete tranquillamente sparare i bitcoin. Anzi, dai, quasi quasi lo faccio in diretta. In diretta me lo faccio sparando i miei bitcoin. Quindi non su questo, però. Chiudo. Electrum. Rigenero altre 12 parole. Vi confesso che non ho voglia e quindi ne cambio qualcuna con audit. Le conosco praticamente tutte io le parole. Jeans. Poi... Non è vero che le conosco tutte, quindi... Stomach. Cambiamo questa in Stomach. Aspettate che me le segno magari anche. Allora, ho cambiato. Le prime quattro sono uguali. Poi la quinta è diventata Stomach. Stomach. Combine Theory. Poi Void è diventato Jeans. Vulcane è diventato Audit. E sarà cambiata anche l'ultima perché ovviamente adesso... Non mi dimmi che è giusta Spoon. Torno su Spy. Invalidi. Spoon è giusta. Spoon è la soluzione. Spoon è giusta come ultima Spoon. Se metto Spy, non va bene. Incredibile. Spoon è la soluzione di ogni male. Ok. Una su sedici va bene, quindi. Ok. Quindi ricontrollo per sicurezza. Ails, Siege, Sides, Noodle, Stomach, Combine, Theory, Jeans, Audit, Volume, Tell e Spoon. Spoon. Ok. Passphrase è sempre Pignolazzi. Ricordate Bitcoin, Bip 84. Ecco qui. Questo è il mio indirizzo. Ok, me lo segno. Ok. Adesso brucio col Napalm il computer dove ho fatto girare questa cosa qui. Ok. L'indirizzo non serve a bruciarlo col Napalm. Quindi potete ad esempio con lo smartphone fotografare questo indirizzo per averlo con certezza. Non copiato la manina perché sicuramente sbagliate qualcosa. Ok. Anche se Satoshi ha avuto la buona idea di non mettere mai... No, ritiro, ritiro. Non mettere mai degli 1 e delle L, però vedo che c'è un 1 qui e le L qui. Questa però non è un'idea di Satoshi. È stata introdotta dopo. B, C, 1, Q. E invece qui non dovrebbe esserci mai degli 1, se ci sono le L. Sì, vedete? Non ci sono mai degli 1. E Satoshi ha avuto anche la bella idea di non mettere mai delle O. Ok, bravo. Ok, comunque questo è l'indirizzo. Adesso io apro il mio Electrum, quello dove ho tutti i soldi. Dov'è? Eccolo qui. Bla, bla, bla. E' dove i soldi. La passo. Non è più pipo pipo, ovviamente. Ok. Ecco qui tutti i miei Bitcoin. Ho ben 210 euro. E sparo tutti i miei Bitcoin su questo indirizzo qui. All'è. Senza controllarla. Io non so se... Pay tu. Ciao, Pignolazzi. Description. Amount. Tutto. All in. Pay. Ok. Quanto ci... Mi pago 1,55 di fee. Un po' meno. Si può pagare meno? 1,15. Paghiamo 1,55. sennò siamo qui fino a domani. Devo fare questi video quando le fee sono basse. Preview. Acquita a posto. Firma digitale. Ok, firmata la mando alla blockchain, mandata. I soldi sono andati, eh. E faccio notare che io non ne ho più. Zero. Basta. Sono lì. Adesso sono a vostra disposizione. Chiunque metta dentro queste parole, seguito da Pignolazzi, recupererà 210 euro. Non è vero perché, ovviamente, prima di caricare il video, faccio tutta la procedura di import dentro Electrum di nuovo e me li risposto sul mio indirizzo. Mi piacerebbe, vero? Ma anzi, quasi quasi. Sapete cosa faccio? Ci lascio dentro, non so, 10 euro, crepi la varizia. E il primo malintenzionato di voi che volesse portarmeli via, li può portare via. Quindi adesso rifaccio tutta la procedura come se io dopo 20 anni da vecchio volessi adesso recupero i miei bitcoin. Vediamo se funzionano ancora. Posso usare Electrum, posso usare un altro software. Quindi supponiamo, passati 20 anni, sono diventato vecchio, voglio recuperare i miei bitcoin per qualche motivo, dal mio paper wallet. Recupero il paper. Ok, cosa faccio quindi? Faccio new. Lo chiamiamo, cancellami. Cancellami. Ah no, cancella perché scrivo meme. Cancella 999. Tanto wallet che non esiste. Standard wallet. I already have a seed. Digital seed. Ecco digitato. Options. Bip 39 seed. Extend the seed with custom words. Next. La custom words è Pignolazzi. Con la P maiuscola. Next. Native seguit. Next. Password. Oppure sbagliata. Non è più Pippo, eh. Ok. Ed ecco qui che sono arrivati i soldi dall'altra parte. È ancora unconfirmed. perché nonostante l'erro e mezzo che ci ho dovuto smenare. Perché c'è sto rosso qui che fa paura? Ah, è perché unconfirmed. Ok. Me li rimando indietro se non vi dispiace. Oddio. Aspettate che devo... Sto facendo un po' di casino. Addresses. Me li rimando all'1pb questo qui che è il mio indirizzo di default. Me li rimando indietro. Ok. Ma non tutti. Ve ne lascio qualcuno. Diciamo che sono 200... Me partirebbero 208. Vediamo un po'. 8. Dai, facciamo... Crepila. Più di 10 euro ci sono, eh. Quindi per chi di voi volesse impossessarsi... Ci sono più di 10 euro sull'indirizzo che ha queste parole e pignolazzi come parola extra. Pay. Ok. A lei è un altro euro 19. Ok, mandato. Dovrebbe... Infatti l'altro lo riceve. Eccolo qui. Abbiamo fatto anche un po' di avanti e indietro di bitcoin. Unconfirmed si sta lamentando anche che erano i soldi, che i soldi non solo sono unconfirmed, ma anche il suo genitore è unconfirmed. Vabbè, verrà tutto confermato prima o poi da qualche miner. Qui ci sono ancora ben 10 euro e 49 di bitcoin, quindi potete impossessarvene se siete arrivati a questo punto del video. Una raccomandazione per chi usa altre criptovalute, ecco qui quando generate, qui c'è una lista di criptovalute. Cos'è il bella coin? Andiamo ad esempio su Ethereum, giusto per citare la più famosa. Ethereum, attenzione, ok? Qui non BIP84 perché chiaramente vedete vi genera degli indizi che non sono... Se sapete cos'è Ethereum e non lo usate per tirare i dadi sui siti di trading, BC non è un indirizzo Ethereum, ok? Qui attenetevi al BIP44, ecco qui, questo è un indirizzo Ethereum. State attenti però che tutta la procedura per Ethereum io non l'ho provata, quindi fate tutta la procedura prima, importate le parole dentro Metamask ad esempio, verificate che funziona, dopodiché create altre... Quindi prima, sempre, mi raccomando, verificare che funzioni. Potrebbe darsi che il wallet non vi generi questo indirizzo come primo, ma vi generi un altro come primo, e questo qui sia il centosetantesimo, però di solito il primo indirizzo che generano è quello che ha indice zero qui. Però controllate, magari vi genera il quinto, parte dal secondo, potrebbe succedere tutto. Questa è la private key e la vera public key, perché io non ve l'ho mai detto, ma questo indirizzo non è la vera public key, è l'ash della public key, il doppio hash della public key. Questa è la vera public key e la vera private key. Volendo potete anche dimenticarvi le 12 parole e ricordarvi queste, ma detto onestamente a me sembra più facile le 12 parole che non ricordassi questa private key che finisce, anzi per bitcoin, ancora più lunga, penso. Quindi attenti che Ethereum è Bip44, sulle altre criptovalute onestamente non lo so, vediamo se c'è altre blockchain tipo Solana. No, c'è Solarcoin. C'è ancora Luna, esiste? No, non ha messo. Ah, forse perché io questa cosa lo... Ah, Luna. Luna c'è. Sì, sì, Terra 1, sì, sì, è lui. E Solana non c'è? Monero? Monacoin, ma Monero non c'è. Io questa qua l'ho scaricato abbastanza tempo fa, qualche anno, un paio di anni fa. Può darsi che adesso ce ne sia un'altra versione, comunque quella che vi do io, io ho guardato il codice. Dove nascondere queste parole? Beh, c'è chi si inventa una storiella, ad esempio, vediamo se mi viene in mente, e Isle, penso sia l'isola pedonale, controlliamolo. Ecco, non vi conviene controllare sul web le parole, perché sennò chiaramente vi beccano. A passage between... Ah no, lì intendono, sì, il passaggio nell'aereo. Ah, oppure una parte parallela alla navata. A passage between cabinet and shelves of goods. Ah, è la corsia, la corsia del supermercato. Quindi, come alcuni utilizzano una storiella, un classico metodo, ad esempio mi immagino me che sono una corsia del supermercato, ad un certo punto il supermercato viene messo sotto assedio, e io dico, ma come fanno ad assediare un supermercato così piccolo, la size? E poi, io stavo soltanto cercando di comprare degli spaghetti, quindi io ho messo al supermercato lì. Attenzione, l'ordine è importante, quindi non sono al supermercato che cerco gli spaghetti, sono al supermercato, all'improvviso mettono sotto assedio. Io dico, ma è così piccolo questo supermercato, ecco qui mi nascondo dietro gli spaghetti, e poi vado avanti, che so, ma mi danno il volto a stomaco, e non so come mettere combine theory, ma questo è un metodo, è il metodo, diciamo, questo è il cosiddetto brain wallet, che è il meno sicuro di tutti. L'altro è quello, chiaramente adesso sono un milione di metodi per nascondere queste parole, però nel momento in cui ve li dico non possono più essere utilizzati. Io utilizzo quello di nascondergli dietro i quadri, ecco così, ecco fatto, ok, potete scrivergli dietro i quadri, potete anche sfruttare il fatto che le parole devono essere in ordine, se non sapete l'ordine è praticamente impossibile ricostruire la frase, perché le combinazioni sono troppe, quindi un altro metodo è mettere dietro i quadri, ma i quadri hanno un ordine, ad esempio l'ordine in cui li avete comprati, che non è l'ordine in cui sono esposti, quindi anche se il ladro che arriva in casa, c'ha tempo di guardare dietro i quadri e sa come funziona bitcoin e riconosce le parole, neanch'io penso che se ne vedo una sola di queste, se vedo che so, immaginate voi, vedete un quadro scritto tornado, per voi, ah, è una delle 2048 parole di bitcoin, ma dove? E neanche se vedete tourist tornado, neanche quello ci penserei. Bisogna provvederne almeno 6, secondo me, per avere l'intuizione che possono essere parole. Potete nascondere dentro un libro, ogni 100 pagine sottolinearne una, un po' strano questo, no? In effetti non è facile questo. O scriverle, ogni 50 pagine scriverne una, ogni tanto scriverne una, scriverne una per ogni libro. I ladri notoriamente le librerie ve le rovesciano, eh? Non è che i libri li appono più che altro per cercare se ci sono soldi dentro, non è che guardano le parole, ve lo assicuro. Quindi, insomma, ci sono vari met, tantissimi metodi, infiniti, c'è gente pazza che li scrive su delle placche di platino. Vi consiglio di averne almeno tre coppie in giro in posti diversi, ok? E che non si capisca che siano 12 parole di bitcoin, eh? Se no, ovviamente, chi le trova casualmente, quindi se sono tutte assieme, chi le trova casualmente. Ok, a parte queste, queste modi per nasconderlo, però che non era l'obiettivo di questo video, eccovi qua, il sistema, come avete visto, funziona. Io l'ho fatto due volte, addirittura una volta con i bitcoin veri. Ricordo ancora che ci sono 10 euro in bitcoin. Vediamo quanto tempo ci mettete a rubarmeli. E se avete obiezioni su questo sistema, scrivetemele nei commenti. Le obiezioni verranno tutte cancellate. Le obiezioni inutili del tipo, eh ma i dadi non sono un modo giusto per randomizzare, randomizzare, verranno impietrosamente cancellate. E il libro lo so che non è un modo giusto per randomizzare le cose, perché a seconda di dove lo apro, so che sono più o meno vicino allo zero, al mille. Però ci sono, i dadi ad esempio funzionano benissimo. Potrei farlo anche con i dadi da 6, ma è molto più difficile perché riuscire a, non sommate i dadi perché la distribuzione poi non è più corretta. Ecco qui. E dopo tutta questa pappardella, finalmente la parte succosa. Perché va ancora bene comprare ETN e ETC sulle cripto, ma non è proprio come pensate? Eccola qui. Qualcuno ha scoperto che non sono proprio così come ce li pensavamo. Ecco qui, sorpresa. Ciao Guido. Ciao, ciao Paolo. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Guido ha fatto un'analisi su questi strumenti. Guido, io mi immagino che uno di questi strumenti, se è a replica fisica, quindi gli ETN in criptovalute, ad esempio in Bitcoin, se è a replica fisica, ci sia nella sede dell'emittente un tavolo con su tutta una fila di chiavette, che sono gli hardware wallet, oppure tutta una fila di pezzi di carta tipo questo, con su le parole segrete, le 12 parole segrete. È così tu che hai letto i documenti? Sì, non proprio, non proprio, nel senso che purtroppo per quanto riguarda questi prodotti non si tratta appunto di ETF, ma di exchange traded product diversi dagli ETF, in particolare per le cripto si tratta di ETN, exchange traded notes, e non sono nient'altro che, detto in soldoni, dei prestiti che noi facciamo a delle società, le quali ci promettono che poi investiranno questi proventi dei nostri prestiti in Bitcoin, in criptomonete e quant'altro. Ma da un punto di vista estremamente legale, e i loro fogli informativi lo dicono molto chiaramente, non c'è nessun obbligo a investire in criptomonete, loro possono effettivamente prendere e investirli in quello che vogliono. Noi stiamo facendo un prestito a queste società. Un prestito, peraltro, che, vedremo anche nel mio video, non paga nessun interesse particolare, e anzi ti chiede indietro un po' di TER annuale. Per cui c'è da chiedersi, come investitori siamo disposti... Una curiosità, ma quelli che sono indicati a replica fisica, perché ho visto alcuni a replica fisica, altri mi sembrava replica sintetica. Quindi sono tutti, diciamo, neanche replica... Sì, diciamo, non ha più senso questa definizione, perché la replica fisica sarebbe quest'obbligazione che tu stai comprando nei loro confronti, nei confronti dell'emittente. Ma in realtà non c'è nessun bitcoin... Ah, quindi è praticamente un certificato, sostanzialmente, ci vendono, un'obbligazione espressa in bitcoin. Sì, l'unica differenza rispetto a un certificato è che viene creato da una società veicolo verso la quale tu hai l'obbligazione. Il certificato, invece, è direttamente verso la società stessa che lo emette. Per il resto, sì, è a tutti gli effetti un titolo di debito. Sì, siamo completamente nelle mani loro, perché io mi immagino lo scenario più drammatico, che in realtà drammatico non è, però, schizza in su una criptovaluta di 10x nel giro di un mese e la gente comincia a chiedere indietro soldi a loro e loro non hanno 10x i soldi che hanno aggranellato. C'è questo rischio, anche perché l'ETN, al contrario dell'ETF, è molto meno flessibile nel poter emettere e ritirare quote. C'è tutto un meccanismo piuttosto faraginoso, per cui anche loro hanno difficoltà a mantenere un prezzo di mercato vicino al net asset value. Ah, ok, bene. Non spolleriamo ulteriormente, rimandiamo tutti i dettagli a qui, il video di Guido. Benissimo, grazie mille ed averci rovinato la festa. Grazie a te Paolo. Ciao Guido, ciao a tutti. Ciao.